. Jennifer Aniston contro il sessismo, parlate davvero delle donne. Considerata una delle star di Hollywood più belle e acclamate del momento, Jennifer Aniston non possiede solo l'elisir della giovinezza, ma anche il coraggio di dire sempre ciò che pensa. . L'attrice infatti è in prima linea nella difesa dei diritti delle donne e non ha mai perso l'occasione di schierarsi pubblicamente contro il sessismo, ecco che cosa ha dichiarato la coraggiosa Jennifer. . Jennifer Aniston dice no al sessismo. Il mondo di Hollywood è pieno di contraddizioni, ma sempre più spesso le attrici hanno deciso di parlare di sessismo, richiedendo a gran voce una maggiore uguaglianza tra i generi. . Da Charlie Zetteron a Jennifer Aniston, le star che non hanno paura di usare la loro voce per rivendicare ciò che è giusto stanno sensibilmente aumentando, ponendo una rinnovata attenzione su tematiche delicate e allo stesso tempo importanti. . Jennifer Aniston per esempio, durante la sua partecipazione al Gifoni Film Festival, ha nuovamente ribadito che sarebbe importante che la stampa si concentrasse meno sui look e le scarpe indossate dalle star femminili, quanto invece valorizzasse il loro talento e i loro valori. . Molto spesso infatti attrici e modelle vengono nominate solo quando si tratta di lanciare nuove mode e fare gossip, dimenticando tutto ciò che riguarda il meraviglioso universo femminile. . . Un altro tema che le sta molto a cuore è la lotta al body shaming, una star deve potersi permettere un po' di gonfiore o qualche chilo in più senza per questo essere costantemente giudicata. . . Basta al corpo a raggi X, la Aniston sta portando avanti la sua battaglia con l'innata eleganza che la contraddistingue, raccogliendo un consenso internazionale. . Jennifer, la bellezza e il talento di una donna. . . Dopo la dolorosa separazione da Brad Pitt, che ha preferito Angelina Jolie, Jennifer Aniston ha avuto la forza di rialzarsi e rimettersi in gioco, dimostrando quanto grazie alla determinazione qualsiasi obiettivo possa essere raggiunto. . . La Aniston è una delle attrici più apprezzate del momento, oltre ad una donna di una bellezza mozzafiato, il pubblico ha iniziato a conoscerla per il suo ruolo di Raquel in Friends, ma durante gli anni ha ottenuto numerosi successi, partecipando a varie pellicole. . Oggi la Aniston vive felice a fianco di Justine Theroux e ha più volte ribadito di non sentire la mancanza di un figlio. . Secondo la società, ancora oggi, ogni donna dovrebbe desiderare la maternità, ma l'attrice ha spiegato di sentirsi completa comunque e di non rimpiangere le scelte fatte in passato. . Jennifer non perde occasione per schierarsi contro i tabù che vorrebbero piegare le donne ai dettami della società, il suo coraggio è stato apprezzato e continua ad esserlo. . . Durante la sua partecipazione al Gifoni Film Festival, la star di Hollywood è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei giovani che rivedono in lei unicona femminista moderna, l'attrice si è commossa e ha rivelato di confidare molto nelle nuove generazioni. . . . . . . .